Per le imprese italiane è sempre più difficile trovare mano d'opera. Nell'ultimo anno la quota di lavoratori introvabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% registrato a luglio 2023. Lo rileva un rapporto di confartigianato. Il fenomeno è diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali fino alle attività digitali e high-tech. In particolare le maggiori difficoltà di reperimento si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica, nelle costruzioni, nella conduzione di impianti e macchinari. A livello regionale le imprese che faticano di più a trovare dipendenti operano in Trentino Alto Adige con il 61,6% del personale di difficile reperimento. Seguono quelle della Valle d'Aosta, dell'Umbria e del Friuli Venezia Giulia. Ma la scarsità di mano d'opera è un fenomeno in crescita ovunque. Nell'ultimo anno, infatti, la quota di lavoratori difficili da trovare è salita di 9,1 punti nel mezzogiorno, di 6,9 punti nel centro, di 7,4 punti nel nord-ovest e di 6,5 punti nel nord-est.